Ciao a tutti e benvenuti in questo video. Oggi ci struccheremo insieme e vi farò vedere la mia skincare serale. Come prima cosa vado ad utilizzare un prodotto famosissimo di Clinique, il Take the Day Off Cleansing Balm. È appunto un balsamo struccante che utilizzerò per andare a sciogliere e rimuovere tutti i residui, l'impurità, il trucco dal mio viso. È una sorta di appunto burro, quindi ha una consistenza burrosa che poi si va a sciogliere sul viso e va a rimuovere per bene qualsiasi tipo di makeup, lunga durata, waterproof. È uno degli struccanti più efficaci che io abbia mai provato. Lo vado a passare appunto sugli occhi, su tutto il viso finché riesco a sciogliere tutto il makeup e poi vado delicatamente a risciacquarlo per bene. Dopo lo struccante utilizzo un detergente. Questo è un detergente di balea in mousse e in particolare è la versione alla camomilla adatta per le pelli delicate e sensibili. Lo vado a utilizzare in combo con il mio amato Foreo, quindi metto un pochettino di schiuma sul viso e vado poi a utilizzare il Foreo su tutto il viso. Non uso tutti i giorni il Foreo ma cerco di utilizzarlo almeno tre volte a settimana. Rende la pelle veramente liscissima e pulitissima e con questo passaggio vado quindi a rimuovere eventuali altri residui di makeup e impurità dal mio viso per renderlo pulitissimo e ben levigato. Dopodiché ovviamente risciacquo e mi asciugo. Una volta lavato al viso passo all'applicazione del tonico, successivamente del contorno occhi, siero, crema, eccetera eccetera. Qua vado ad utilizzare anziché un tonico un'acqua aromatica di Anthos alla Mamelis. Mi piace utilizzare le acque aromatiche al posto dei tonici e mi piace utilizzarle con un dischetto di cotone da passare su tutto il viso. Successivamente passo al contorno occhi, in questo caso sempre un prodotto di Balea ed è un contorno occhi della linea Al Q10. È una cremina bianca abbastanza leggera che vado a picchiettare sul mio contorno occhi. Mi piace molto devo dire questo prodotto. Leviga, idrata e in più ha un piccolissimo prezzo perché come tutti i prodotti Balea è un prodotto low cost ma che mi dà sempre grandi soddisfazioni. Dopodiché passo all'applicazione del siero e utilizzo un siero in gel lenitivo, Fisalis e fiori d'arancio di Delidea. È molto molto buono questo siero, è davvero leggero, non è proprio in gel, però si stende facilmente, si asciuga velocemente, ha un buon profumo delicato e lo trovo veramente adatto appunto per una pelle sensibile e appunto che ha bisogno di essere idratata, ristrutturata, allinita in una certa maniera. Quindi mi piace molto come prodotto per la stagione fredda. Dopodiché passo a un trattamento, questo è un prodotto di Alverde che è una linea biologica ed è un trattamento specifico per le imperfezioni da applicare localmente, quindi da andare ad applicare in piccole quantità dove si hanno le varie imperfezioni, quindi o su un brufolo o nelle zone un pochettino più critiche. Io qua vado appunto ad applicarlo sulla zona T. Se avete un brufolo e applicate questo prodotto riuscirete ad attenuarlo e nel giro di qualche giorno a farlo guarire. Dopodiché passiamo alla crema. Vado ad utilizzare sempre un prodotto di Balea e in questo caso è la crema al Q10. Devo dire che questa linea al Q10 mi è piaciuta molto, ho provato il siero in passato, il contorno occhi che avete visto prima e appunto questa crema, che è una crema non troppo pesante nonostante sia comunque nutriente ed idratante, io la utilizzo soltanto la sera e devo dire che mi piace molto perché lascia la pelle morbida e rimpolpata. E sono pronta per le nanne. Grazie a tutti e un bacione! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!